Brannichow Zodiaco 19, calendario astrologico, dove è disponibile lo Zodiaco di tutto l'anno, noi, per ovvie ragioni, ci limitiamo a rivelare, però, solo piccole indicazioni valide, appunto, all'oroscopo di oggi, giovedì 25 aprile 2019, e dei giorni fino al primo maggio. Con la festa del lavoro si aprirà un mese da dedicare intensamente agli affari se si appartiene al segno zodiacale della riete. Per il toro dopo la giornata di oggi, festa della liberazione, finirà un mese all'insegna della buona salute. Oroscopo di Brannichow, previsioni di oggi, 25 aprile, e dei giorni fino al primo maggio, altri segni. L'oroscopo di Brannichow di oggi, 25 aprile 2019, ed è l'1 maggio dei nati gemelli consiglia invece di puntare sulle collaborazioni all'inizio del nuovo mese, mentre sta per finire un mese nel quale il cancro ha dovuto tenere d'occhio la forma fisica durante i cambi di luna. In questo mondo globalizzato occorrono apertura ed utilità per ottenere successo, indicazione valida per il leone, che domani avrà un ultimo quarto rischioso, mentre aprile finirà con un cambio di luna complicato per i nati vergine. Dal primo maggio, per tutto il mese, Venere sarà a caccia di emozioni forti per la bilancia, mentre domani si raccomanda cautela per la forma fisica se si appartiene al segno dello scorpione, come abbiamo anticipato anche con l'oroscopo di questi giorni. Brannichow, oroscopo 25 aprile 2019, previsioni da oggi all'inizio di maggio degli ultimi segni. Cambio di luna positivo domani per i nati sotto il segno del sagittario, secondo le previsioni dell'oroscopo di Brannichow del ponte dal 25 aprile al primo maggio 2019, mentre ci sono un po' di sofferenze in famiglia per il capricorno, da Pasqua. Finisce un mese di aprile, per l'acquario, fatto di notti vivacissime, mentre per i pesci L1 maggio inizierà un mese che vedrà conflitti tra genitori e figli. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.